Music Art Management, in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima del Bosco, presenta Summer Show 2012, martedì 14 agosto, Piazza Plebiscito, Spinazzola, sul palco, Irene Fornaciari, Tuli Maiello, Luca Dirisio, Marina Ray, Riccardo Singaglia, da X-Factor, Antonella, da Iocante, Silvia Iannone e Gabriella Ruano. Presentano Mauro Dalsogno e Roberta De Matteis, da Radio Norba. La serata sarà ripresa dalle telecamere di Music, Summer Show 2012, martedì 14 agosto, Piazza Plebiscito, Spinazzola, ingresso gratuito.